Ben ritrovati da MeteoInCalabria.it. Ancora bel tempo sul nostro territorio. Il promontore anticiclonico tiene bene sulla penisola balcanica e mediterraneo centrale. Da ovest inizia tuttavia una fase erosiva a carico di una perturbazione atlantica attualmente adagiata sulla penisola iberica. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi cielo sereno poco nuvoloso con tendenza a parziale nuvolamenti di tipo stratificato sotto forma di velature che potrebbero solcare i cieli del settore centro-settentrionale della regione. Temperatura pressoché stazionaria. Domani generalmente poco nuvoloso con tendenza a parziale nuvolamenti a partire da sud nel corso della giornata. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi mari calmi ovunque con ventilazione assente o deboli di direzione variabile. Domani ventilazione assente o deboli di direzione variabile con mari ovunque calmi. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina facebook Meteo in Calabria. Bene per oggi è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani.